circostruzione. Ebbene allora sempre sapere che tutti coloro che voteranno per l'Alternativa Popolare o per Forza Italia in realtà stanno votando per il Partito Popolare Europeo. Cioè le persone C che saranno elette di Forza Italia e di Alternativa Popolare andranno a sedersi sugli stessi scranni e saranno le persone che rappresenteranno l'Italia all'interno del Partito Popolare Europeo. È un dettaglio non da poco estremamente importante. Siamo l'unica nazione al mondo, o meglio siamo l'unica nazione in Europa, che si presenterà all'elezione europea con due partiti distinti che in realtà sono un partito. Sapete perché ci presentiamo in maniera distinta? Qualcuno dei vostri elettori potrà dire e qui torniamo ancora una volta al voto utile. Per esempio ultimamente ci stanno facendo credere in Italia che quasi quasi c'è una sfida italiana tra chi è governativo e chi non è governativo. In realtà è un'altra grande bugia perché noi stiamo andando alle elezioni europee. Il governo è totalmente diviso. Cioè la Lega andrà con l'estrema destra europea, il Germania andrà con i neonazisti europei. Quindi chiunque di voi voterà per la Lega, deve sapere che non sta votando per la Lega. Eventualmente voterà per i nazisti europei, per l'estrema destra europea. Fratelli d'Italia. Chi voterà per i fratelli d'Italia, deve sapere che non voterà per i fratelli d'Italia. Volterà per un gruppo diverso che si chiamano conservatori. Quindi signore ci saranno i conservatori europei. Allora questi due partiti non potranno andare in Europa a rappresentare il governo italiano. Andranno in Europa a rappresentare ognuno se stesso. Ho già detto che Forza Italia verrà con noi all'interno del Partito Popular Europeo. Allora molti mi potranno dire perché dovrei votare per Romagnoli che in fondo non si è candidato con Forza Italia che è come alternativa popolare nel Partito Popular Europeo. Ecco la risposta ve la suggerisco io, è semplicissima. Bisogna dare il voto utile. Oggi è indispensabile dare un voto utile. Ma se diamo un voto utile...